E' sempre più emergenza per furti e rapine nel Salernitano. Ad essere presa di mira questa mattina una gioielleria a Capaccio Scalo nel Cilento, una rapina a mano armata sulla centralissima via Magna Grecia che ha visto protagonisti quattro malviventi, tre uomini e una donna, che intorno alle 9.30, poco dopo l'orario di apertura, si sono presentati all'ingresso della gioielleria di proprietà di un consigliere comunale del centro cilentano. Due di loro, pistole in pugno, sono entrati nella gioielleria, facendosi così aprire dalle commesse le porte di sicurezza dotate di metal detector. Le altre due persone che componevano la banda con il viso coperto da passamontagna hanno invece bloccato le ante blindate dell'ingresso facendo irruzioni all'interno. A quel punto uno dei malviventi ha puntato la pistola contro le due commesse intimandolo di stare zitte per poi rinchiuderle in uno stanzino. La banda è riuscita così a fare razzia in maniera quasi indisturbata di monili ed oggetti in oro, un bottino ingente. I quattro rapinatori hanno asportato dalla gioielleria due borse piene di preziosi per poi darsi alla fuga su un'autovettura che la attendeva all'esterno. La gioielleria è di proprietà di Leopoldo Marrandino, consigliere comunale di Capaccio che al momento della rapina non era presente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, diretti dal luogotenente Serafino Palumbo, coordinati dalla compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Raffaele Annicchiarico che ora stanno indagando sull'accaduto. I militari hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interno ed esterno di cui è dotata la gioielleria per cercare di risalire ai responsabili della rapina.